Qualche giorno fa sono stata al Sulmona International Film Festival per un incontro con Matteo Rovere e Francesco Lò. Era la prima volta che partecipavo, nonostante fosse la quarantesima edizione. È stato bellissimo. L'incontro con Rovere è stato di una naturalezza e ricchezza emozionanti, nonostante alla fine sia dovuto correre via. Quindi, grazie al festival per il suo personale gentile, la location adatta e il ricchissimo programma di cortometraggi e incontri. Last but not least, grazie a Francesco Lò e ad Emanuele Rauco.